Ciao teste di alcol, quando uscite la sera e bevete cercate di non mettervi al volante e cercate di custodire la vostra vita perché la vita è un dono prezioso, è bellissimo c'è stato donato, dobbiamo conservarla, è un dono prezioso per tutti e anzi io vi consiglierei, siccome io sono una stemia e non bevo vi consiglierei proprio di bere il meno possibile perché fa proprio bene alla salute bere troppo non va bene, comunque mi raccomando non mettetevi al volante cercate di stare attenti e rispettate voi stessi e la vita degli altri ok? Un bacio da Marina, ciao